Le leggi di affinità. Domanda. Quindi i gruppi poi sono infiniti? Magister attraverso Ettore C. Diciamo che sono infiniti perché le leggi di affinità sono infinite. In fondo esistono i gruppi e poi esiste il gruppo dei gruppi che è questa grande coscienza universale in cui questo movimento eterno dell'immobilità si realizza. Ma io devo dire che sono costretto ad usare termini paradossali. Per esempio ho detto l'immobilità del movimento o il movimento dell'immobilità e sono termini che se fossero ascoltati da uno studioso di scienza farebbero inorridire. Ma purtroppo le cose stanno proprio come dico io perché io vedo quello che c'è. Io so quello che c'è e perciò mi ingegno con tutti gli sforzi possibili a trasferirvelo. E vi prego sempre di disporvi sentimentalmente cioè di sentire non di ragionare tutte queste cose perché io devo dire con molta franchezza che in fondo in natura e nell'eternità due due non fanno sempre quattro.